Che direi che è finita? Io ti amo! Io ti amo! Edgar! Ehi! Ti scansi! Edgar! Levati di mezzo! Ma ti vuoi spostare? Edgar, dove sei? Tanto lo so che sei qui! Chi diavolo è Edgar? È mio marito e chiudi quella boccaccia! Edgar, rispondimi! Rispondi, Edgar! Signora, non è trasparente! Edgar, ma dove sei? Esther! Edgar, rispondimi! Esther! Abbiamo trovato Edgar! Sono qui! Ehi, abbassati! Ti vedo, ti vedo! Ascoltami, lo so che ti ho deluso e forse tu non credi che io meriti il tuo perdono ma me lo concederai con le buone o con le cattive Edgar perché quando ami qualcuno, ami tutto di questa persona funziona così! Sì, adesso lo so! Oh, mi dispiace tanto! E allora, ti prego, devi amare ogni cosa di me e non solo le cose buone ma anche quelle cattive le cose che trovi adorabili e quelle che non ti sembrano tanto adorabili! Ora lo so! Non ti lascerò mai! E allora, ti lascerò mai! Grazie a tutti.